Ora vediamo la nostra guida al trading sul Forex per la piattaforma MetaTrader 4. Abbiamo visto che sono fondamentali per l'individuazione della direzione del prezzo la media mobile a 21 periodi, la media mobile a 200 periodi ed una corretta sistemazione della griglia di trading con 35 caselle orizzontali e 15 caselle verticali. Quindi un'ulteriore media mobile necessaria per individuare la direzione del prezzo è la media mobile a 7 periodi, quindi un'altra media mobile veloce. Eccola qui. Abbiamo detto che fino a quando il prezzo si trova sopra la media mobile a 21 periodi, la tendenza è sempre rialzista. Come potete notare, le candele giapponesi sono sopra la media mobile a 21 periodi. In questa fase c'è stata una risalita. Da ieri infatti il cambio euro-dollaro ha preso a salire. La media mobile a 21 periodi si trova sopra la media mobile a 200 periodi. Abbiamo detto che quando una media mobile veloce a 21 periodi si trova sopra una media mobile lenta, la tendenza è sempre al rialzo. Lo stesso discorso vale anche per le medie mobili più piccole, con meno periodi, che incrociano al rialzo o al ribasso le altre medie mobili. Quindi, in questo caso, guardate, spostiamo il grafico, la media mobile a 7 periodi ha incrociato qui quella a 21 periodi. Quindi, il prezzo ha iniziato a scendere. Un piccolo storno dei prezzi. Torniamo indietro. Come spiegavamo in altri video passati, l'andamento del prezzo sul grafico Forex è una progressione di candele che salgono e scendono. Le candele bianche sono candele di acquisto. Le candele nere sono candele che vengono vendute. Due candele bianche consecutive con un massimo più alto ed un minimo più alto danno luogo, sicuramente, ad una candela bianca con un nuovo massimo ed un minimo più basso. minimo più alto, scusate. Ripeto di nuovo il concetto. Due candele bianche consecutive con un massimo più alto ed un minimo più alto danno luogo ad una nuova candela bianca con un massimo più alto ed un minimo più alto. e così via. In questo caso, vedete, ci sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Di solito, dopo sei candele bianche, la settima è una candela nera o una candela che assume una figura ribassista. Questo accade per tutti i time frame. È una piccola particolarità. Dopo sei candele bianche consecutive la settima è nera. Allo stesso modo, delle candele bianche anche le candele nere, come vedete, seguono lo stesso andamento. Due candele nere consecutive con un massimo più basso e un minimo più basso danno luogo sempre ad una ulteriore candela nera. Guardiamolo meglio in questo modo. Ecco. Abbiamo una... ecco, una prima candela nera una successiva candela nera quindi con un minimo più basso in questo modo e abbiamo la conferma che il prezzo continuerà a scendere. Togliamo l'ancoraggio. Allora. Guardiamola... ecco, meglio qui. una candela nera una successiva candela nera quindi due... un secondo minimo più basso ed un massimo più basso questo massimo a 0,591,3 è minore di 0,591,5 la terza candela è sicuramente negativa quindi nera con un nuovo minimo più basso torniamo indietro l'andamento del prezzo e quindi l'andamento delle candele giapponesi che vedete sul time frame si basa sulla considerazione che prima di questa candela nel riquadro del time frame a 30 minuti ci doveva essere necessariamente una base di supporto che ha dato vita al rialzo cioè si è creata una base un pavimento un supporto che ha fatto sì che i prezzi iniziassero a salire se lavorate sul grafico M30 la vostra base il vostro pavimento è la media mobile a 200 periodi i prezzi intorno alla media mobile a 21 periodi e a quella a 7 periodi possono avere un andamento ondulatorio perché nel mercato si acquista e si prende profitto e quindi si vende si vende e poi si riacquista si vende e poi si riacquista vedete si vende e poi si riacquista fino a quando il prezzo non inizierà di nuovo a scendere verso la media mobile a 200 periodi e a ridoccare il minimo del grafico come spiegavamo nel video legato allo swing all'altalena sul grafico vanno individuate le cosiddette resistenze da rompere per andare al rialzo le swing rialziste e i supporti le cosiddette swing ribassiste e cioè i supporti da rompere per scendere ulteriormente su questo grafico ogni volta che inizia la giornata di trading dovete specificare l'inizio esatto della giornata guardate vi segnate alle ore 23 e 30 ancoriamo il grafico ok alle ore 23 e 30 cioè quando finisce ecco 23 e 30 ieri il prezzo ha subito un forte rialzo è arrivato quasi a 7 ora i prezzi sono sotto la media mobile a 21 periodi e la media mobile a 7 periodi ha incrociato al ribasso quella a 21 periodi quindi un elemento di debolezza quando una media mobile veloce in questo caso m7 incrocia al ribasso m21 i prezzi si sono indeboliti tuttavia rimaniamo al di sopra della media mobile a 200 periodi ma come dicevamo poco fa i prezzi non salgono all'infinito ci devono pur essere delle prese di profitto e quindi delle vendite cosa è necessario individuare all'inizio di ogni sessione di trading o comunque quando voi vi mettete davanti al computer per iniziare a fare trading bisogna individuare la swing rialzista e quella ribassista ora qui la swing rialzista è molto facile da individuare la swing la swing rialzista si ha quando una candela più alta con un massimo più alto è stata interrotta da una candela nera il massimo della candela bianca ok è la resistenza da rompere per andare più in alto quindi 06969 e segniamocela 06969 06969 immediatamente sotto la media mobile a 21 periodi dovete individuare qual è la swing rialzista che darà luogo ad un ulteriore storno dai massimi di ieri ora fate molta attenzione una candela bianca prima di una candela nera ci dà l'esatta posizione della swing rialzista il minimo della candela bianca è il supporto da rompere le medie mobili come abbiamo già ricordato fungono da elementi grafici di supporto e di resistenza questa gobba che vedete qui è una resistenza è una resistenza ok allo stesso modo anche le gobbe delle medie mobili più piccole sono delle resistenze fate attenzione alla media mobile a sette periodi ecco anche questa gobba vediamo un po' lo ingrandiamo ecco ecco qui questa è una resistenza ok noi abbiamo detto che dobbiamo individuare la swing ribassista rispetto alla media mobile a 21 periodi deve stare sotto di essa ma deve stare anche sotto la gobba della media mobile a sette periodi che è una resistenza ora la prima candela bianca che ha un minimo sotto questa resistenza è questa candela vedete ha un minimo 0,6 e 64 la candela si trova dopo una candela nera quindi è una swing ribassista inseriamo qui precisamente la linea di supporto eccola mettiamola di colore rosso così identifichiamo il ribasso eccolo torniamo alla visualizzazione normale eccola qui quindi questa è la swing ribassista di oggi 0,6 64 cosa vuol dire che una candela nera che si chiude sotto 0,6 64 in particolare 0,6 64 ok deve trovare una rottura con una candela nera che abbia almeno 2,1 pips in meno e cioè 64 meno 2,1 61 e 9 ok quindi 61 e 9 sarà la candela nera che dovrà chiudere sotto 0,6 64 se fate caso alla griglia in questo momento potete notare come abbiamo una esatta coincidenza quasi ecco del nostro limite di vendita con la grid la grid ci segna 0,6 61 e 8 noi sappiamo che il supporto prima di cadere è 0,6 e 64 meno 2,1 pips 61,9 qui la grid è 61,8 ecco perché è importante avere una corretta impostazione delle caselle verticali ed orizzontali con questa esatta visualizzazione anche della market watch che vedete qui a sinistra allora individuata la swing ribassista del giorno che cosa possiamo dire che fino a che il prezzo è sopra 0,662 può salire ma alla prima candela che si chiude sotto 0,661 e 9 il prezzo inizierà a scendere visto che ieri è stato un bel rialzo ok da 0,554 fino a 7 è verosimile attendersi che lo storno oggi potrebbe arrivare sino a 0,557 72 0,557 quindi abbiamo individuato la swing rialzista la mettiamo di blu eccola coincide con il massimo di ieri la rottura della resistenza deve essere 0,6 9,69 più 2,1 pips la swing ribassista che abbiamo individuato ok quindi abbiamo individuato la swing ribassista di oggi andando a prendere la prima candela nera che chiude sia sotto la media mobile a 7 periodi che sotto M21 il minimo della candela bianca precedente a 0,664 è il supporto da rompere ok 0,664 meno 2,1 pips è 0,661 9 la grid coincide quasi con questo limite di supporto quindi sotto 0,661 9 si scende per andare a toccare di nuovo M200 fino probabilmente 0,557 0,558 0,558 0,558